Hanno realizzato due laboratori multimediali catturando la curiosità della stampa locale che ha dedicato a loro un servizio giornalistico. Protagonisti una volta tanto in positivo, due agrigentini, fratelli Gemelli Calogero e Angelo Scarnacchi, ironia della sorte, entrambi insegnanti che hanno trovato lavoro nello stesso comune. Monza si apure in due scuole distinte. Intanto i due, come detto, si sono fatti apprezzare dall'opinione pubblica di Monza per avere creato due laboratori linguistici multimediali all'interno delle due rispettive scuole in cui insegnano. Un fatto che ha suscitato la curiosità della stampa locale anche per via della storia dei fratelli Gemelli che hanno trovato lavoro nello stesso comune.